Ciao a tutti, bentornati in un nuovissimo video. Io sono Angeles, per chi non mi conoscesse, e questa volta per voi ho portato un super haul di Decathlon. Se volete sapere cosa ho acquistato, restate qui con me. Come primo acquisto è questa borsa qua, è una borsa fixne rosa, è un prodotto ideato per fare fixne grandi e per i piccini. È una borsa fixne in tela resistente, piccola ma pratica, con una tasca anteriore con la zip per gli effetti personale e una tasca laterale in mess per la vorraccia. Un altro acquisto è questa maglia, è una maglia sci donna, è ideata per la sciatrice che scia con intensità moderata, a basse temperature, che cerca un buon equilibrio tra calore e traspirabilità. Un altro prodotto che ho acquistato sono questo intraditto Bahama Neri, progettata per rispore acquatici, pratiche prima o dopo uscite in mare. Intraditto rozzingoma, con plantare e lavorato per offrire più comfort. Calzata morbida con un buon ammortizzamento e una buona resistenza. E ora passiamo all'ultimo acquisto, è questa maglietta qua rosa della Adidas, è una maglietta da palestra per pilates, ideata per la ginnastica dolce. Questa tescirti mantiene asciutto per le tue sessioni di allenamento, grazie a questa maglietta comoda e traspirante, che offre grande libertà di movimento. E siamo arrivati alla fine di questo video, e spero che il video vi sia piaciuto. Grazie di essere state qui con me, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!